Buonasera, benvenuti a questo nuovo assentamento del nuovo anno. Abbiamo il piacere di avere con noi il professore Emanuele Vardaci dell'Università di Napoli Federico II. Emanuele ha, oltre a essere, un caro amico di molti di noi. Ha avuto un periodo di postdoc a Pissimundo e la sua attività di ricerca è principalmente legata con gli elementi super pesanti, con studi di processi, con ad esempio processi di quasi Pissimundo. Attualmente Emanuele, il professore Vardaci, è uno sport person in ogni uno degli esperimenti e dal 2006 al 2016 ha rivestito un ruolo di membro dello Joint UBAC Committee, che è un comitato devoto alla standardizzazione di alcune caratteristiche per la scoperta di, appunto, elementi super pesanti. Per cui, nuovamente, è un piacere dare il benvenuto al professore Vardaci. E quindi, benvenuto a Pissimundo. Prego, alla sera. Grazie. Intanto, grazie per essere intervenuti. Spiegavo, dicevo appunto ai miei colleghi, che è stato un grande onore, un grande piacere essere invitato qui a Catania, dove, oltre ad aver avuto una parentese anche di attività scientifica, si rincontrano amici, persone con cui si è condiviso anche momenti molto belli. Comunque, cioè, godo di una colori, di una stima reciproca. E quindi, per me è sempre un grande piacere venire qui. Soprattutto venire all'inizio anno, quando, dopo un periodo di pausa, è necessario riprendere un po' la rincorsa per le attività del futuro. E quindi si inizia a parlare di scienza, piuttosto di tante altre questioni che sono collegate alla scienza, ma che sono comunque importanti, ma comunque non sono strettamente legate alle questioni scientifiche. Il tema che ho scelto per questa presentazione riguarda, sapete, avete capito, io sono anche un fisico nucleare e negli anni passati mi sono occupato di una tematica molto specifica della fisica nucleare, diciamo, contemporanea, che è appunto quella che va sotto il nome degli elementi super pesanti. Allora io in questa presentazione farò un piccolo viaggio, ecco, così tenendo conto che questa è una presentazione prevalentemente orientata agli studenti del corso di laurea in fisica triennale e magistrale, quindi io farò anche qualche richiamo che apparentemente può sembrare un po' elementare, però mi serve appunto per costruire questo viaggio, questo percorso. E allora qui ci sono due parole chiave, vedete, sono gli elementi super pesanti e l'isola di stabilità. Questo è un concetto relativamente nuovo che è stato introdotto addirittura nel 1966 e quindi dopo 60 anni oggi si incomincia a capire l'importanza di quella intuizione che c'è stata appunto nel 1966. Allora intanto vi faccio, allora vediamo se questo, ecco, ha deciso di non andare. Ok, perfetto. Intanto questa voi la conoscete tutti quanti bene, la tavola per ieri degli elementi e vi faccio notare che dopo il copernicio che vedete qui, di fatto tutti questi elementi sono disconosciuti. Lo sapete bene che una buona parte di questi elementi sono tutti quanti stati sintetizzati nella maggior parte dei casi attraverso le reazioni nucleari. Quindi fino all'uranio 92 la natura ci dice potete trovare l'uranio in giro, dopo l'uranio tutti gli elementi successivi sono stati sintetizzati e siamo arrivati fino al punto di arrivare al copernicio. Dopo il copernicio, vedete, dall'elemento 113 in poi fino a una quindicina di anni fa, questi elementi non erano noti. Non erano noti perché ovviamente non essendo trovati in natura, l'unica possibilità che c'era è quella eventualmente di produrli attraverso reazioni nucleari. Allora, cosa è successo? Fino al 2010 la ricerca sulle reazioni nucleari è andata avanti e sono stati prodotti tutti questi nuovi sei elementi, dal nihonium che è stato prodotto a Riken in Giappone, fino a questi ultimi cinque elementi che sono stati prodotti attraverso reazioni a Dubna in questo grande laboratorio vicino Mosca e cercheremo di capire un po' la storia di questi elementi, come si è arrivati a questo punto, vedete, fino a chiudere l'ultimo, la settima fila della tavola periodica, il che ci dovrebbe far capire sostanzialmente che se uno continua in questa direzione qui, questo elemento che si chiama Oganesson è un elemento nobile, è un gas nobile. Cerchiamo di capire se questo è vero oppure no. Però capite, questo è anche l'unico elemento che è stato, che prende il nome da un ricercatore che l'ha sintetizzato e vivo. Tipicamente questa è già un'altra grande variazione che c'è stata nella storia dell'assalinazione degli elementi. Io vi racconterò un po' come siamo arrivati a qui e qual è stato il ruolo della fisica nucleare. Tutti questi elementi che vedete qui dal Raterfordio in poi vengono chiamati elementi superpesanti. Non vengono chiamati superpesanti, ovviamente, tutti quanti gli altri. Questo super ha un significato estremamente importante ed è legato ovviamente alla fisica nucleare. Poi sapete che nel 2019 sono stati 150 anni della formulazione della tavola periodica da parte di Mendeleyer e quindi c'è stato un po' tutto un insieme di attività tra cui per esempio quello di mettere questa tavola periodica un po' dappertutto tra cui per esempio le facciate dei dipartimenti e così via. Questi sono appunto tutti gli elementi noti da qui fino a dal 64 al 2010 che sono questi qui in bianco. Questi sono gli ultimi elementi che sono stati prodotti dalla Super Heavy Factory che si trova a Dubu. Vedete, poi c'è un'altra tavola periodica con le bandiere dove sono scritti un po' tutti i paesi dove sono stati i prodotti o quelli che sono stati i paesi fondatori dei laboratori che hanno poi sintetizzato questi elementi. Guardate, in Italia c'è uno solo ed è un vostro conterraneo che l'ha scoperto. Si chiama Emilio Segret. Va bene? E questo è un elemento che è stato un po' un pazzo per molti anni perché questo elemento esiste solo in uno stato isomerico non nello stato fondamentale. Ed è estremamente importante per esempio per la diagnostica nucleare per la diagnostica, scusate, medica. Per cui è stata una scoperta una ma sicuramente di grandissimo valore. Magari poi accenniamo a qualche parola come è riuscito Segret a fare questa cosa. Allora, vediamo poi di capire cosa sono questi elementi super pesanti. Vedete, l'idea è quale? Dici, va bene, quanti elementi possono esistere in natura? Cioè, possiamo crescere con lo zeta fino a quando vogliamo e poi a un certo punto non sarà più possibile. Quello che dice l'elettrolineatica quantistica è che fino a 170 gli elettroni possono ancora creare, possono convivere e creare un nucleo atomico. Il problema è che però l'esistenza di un atomo con 170 elettroni naturalmente è soggetto all'esistenza di un atomo che ha un nucleo con 170 protoni. E chi sa poi quanti neutroni, no? E allora è chiaro che l'esistenza di questo atomo è dovuto ovviamente all'esistenza del nucleo. Quindi ci dobbiamo credere se è un nucleo con tanti zeta può esistere oppure meno. In realtà, il nucleo con tutti questi protoni non può esistere, non ha proprietà tali che lo possono rendere stabile e capiremo perché. Accanto ovviamente alla tavola periodica, se proprio il nucleo è la grandezza, è la quantità, è l'oggetto che ci interessa, dobbiamo vedere qual è la tavola dei nuclei. Quindi molti di voi sapranno che questa è la tavola dei nuclei, che è appunto la tavola costruita da Provo d'Emilio Segret, che è un po' la sintesi, tutto quello che conosciamo oggi sulla fisica nucleare moderna. Allora, vedete questa, sapete, diciamo, giusto un piccolo richiamo, vi ricordo che tutti questi puntini neri sono gli elementi stabili. Questa è una mappa dove viene rappresentato la carica del nucleo atomico in funzione anche del numero di neutroni. Ce ne sono diverse, chiaramente, diciamo, diverse, come dire, figure, diciamo, organizzate, magari in qualche modo sono anche invertite, x e y, però questa è quella che tipicamente voi trovate sui testi di fisica nucleare. Qui ci sono scritte tante cose, per esempio è scritto il fatto che ci sono questi numeri, 2, 8, 20, 28, 50, 82, questi due numeri particolari che vengono chiamati numeri magici. E noi capiamo a che ci servono questi numeri magici e sappiamo che in corrispondenza di questi numeri i nuclei sono particolarmente stabili. Questa stabilità è legata a tante cose, per esempio la loro massa è molto più piccola rispetto a quella dei nuclei circostanti, sono sferici, ad esempio, hanno zero momento angolare, hanno stato fondamentale e tante altre proprietà. Questa linea che vedete qui è quella che si chiama anche la linea del processo R, che dovrebbe essere il processo che attraversa la produzione di tanti nuclei e che dovrebbe essere il processo fondamentale per la produzione di tutti gli elementi con masse superiori al ferro 56. Questa linea, questa linea, questa qui nera, è la linea che rappresenta i nuclei stabili che si trovano in natura, che sono alla fine, vedete, 291. Tutti gli altri 3.000 sono stati praticamente prodotti dall'uomo. Quindi già questo fa capire che la fisica nucleare è per noi il punto di partenza di produrre anche elementi che in natura non sono stati trovati ancora e che quasi sicuramente non esistono. L'oggetto della nostra discussione è questo cerchietto qui, questa regione, vedete, dove è scritto un numero magico, per esempio 184, un numero di neutroni, però vedete, lì dentro non ci sono quadrativi, non c'è nel mosaico il tassello, che significa che quei nuclei non esistono ancora, cioè non sono stati ancora prodotti. Se li mettiamo insieme, queste due tabelle sono veramente, dal mio punto di vista, l'enciclopedia più sintetica che noi possiamo trovare in natura. In una sola slide, praticamente diamoci tutto ciò che riguarda la fisica atomica e la fisica nucleare. Adesso andiamo avanti. Le domande che ci stiamo ponendo in questo momento sono queste, qual è l'origine degli elementi, questa è una cosa che, siamo appunto, che ritorna spesso, ma soprattutto quanti elementi possono esistere, quanti sono i numeri magici e, alla fine di tutto, l'origine della forza nucleare. Allora, è chiaro che in questo momento noi ci vogliamo chiedere questa domanda, quanti elementi possono veramente esistere? E vedete, questa non è solo una domanda che mi sto ponendo io e che vi sto ponendo a voi, ma è la terza tra le 11 domande più importanti che la scienza ha messo insieme per dare un punto di riferimento ai ricercatori. Vedete, la prima domanda è che cos'è la materia oscura, che cos'è l'energia oscura, la terza è dove sono stati prodotti gli elementi dall'uranio o come possono essere prodotti gli elementi dall'uranio in poi, che sono, appunto, l'oggetto di questo nostro colloquio, di questa nostra discussione. Sapete che il primo modello, questo forse è già parte del vostro bagaglio, è stato il modello a goccia di liquido, che risale dal 1928 quando, di fatto, il neutrino non era ancora stato scoperto. E quindi, già c'era l'idea alla base che il nucleo potesse essere rappresentato come una sfera, come una goccia di liquido. sapete che anche il Gamow ha sviluppato il primo modello, la teoria, del decadimento alfa, ma questo modello della goccia di liquido è stato poi importantissimo perché ha dato il là a Weisszacher di fare la cosiddetta formula delle masse e poi successivamente Borre e Willer per dare la spiegazione della fissione nucleare nel 1939. Quindi, c'è una storia, vedete, molto ristretta, ma che fa capire che anche una piccola o un'apparentemente diciamo, semplice rappresentazione di un nucleo ha portato in realtà a, diciamo, una spiegazione di fenomeni estremamente importanti. E, per esempio, tra le cose che la forma delle masse spiega bene è la forma delle leggi di legame per nucleone. Questo anche sostanzialmente parte del vostro bagaglio, però una cosa che voglio chiedere, come si misura. Ivano, per esempio, negli anni trascorsi a Napoli era una delle cose che noi facevamo a Napoli e utilizzavamo ovviamente, vediamo se riesco a fare andare avanti questo, il fatto che la massa è legata alle leggi di legame e viceversa ovviamente e noi potevamo verificare che le leggi di legame erano in realtà compatibili e assolutamente d'accordo con la relazione di Einstein e facevamo questo usando un fascio usavano il tango forse Ivano si ricorderà e questa era una delle esperienze proposte da Ivano e che ovviamente andavano proprio alla grande perché avevano il laboratorio sempre pieno di persone e Ivano si ricorderà bene di questo. Bene, allora andiamo avanti quindi questa è la prima parte ora vediamo che succede successivamente sapete che poi si è stato prodotto attraverso il bombardamento dell'uranio con il neutrone è stata prodotta la fissione sapete un po' la storia fermi in realtà non si era raccorto pensava di aver prodotto elementi transuranici in realtà c'è stato questo lavoro fatto da Hans Strassmann interpretato correttamente da Lise Meitere che in realtà il nucleo si spezza in due pezzi ecco questa curva che vedete qui è quella che è la formula dell'energia potenziale del nucleo unidimensionale il nucleo è fatto da tante particelle ma è bastato scrivere il potenziale di un nucleo in funzione di una sola grandezza R che oggi viene chiamata la nucleo deformation e a causa della presenza di questa barriera con un po' di energia data dal neutrone si può superare questa barriera e il nucleo si può dividere in due pezzi questa spiegazione fu data appunto a Bore e Wheeler per la fissione indotta in realtà poi nel 40 Flero fa scoperta la fissione spontanea quella non indotta dai neutroni e questo vedete far capire anche perché non è stata scoperta perché per l'uranio 238 il tempo di dimensamento è 10 alla 16 anni quindi bisognava pensare ad un esperimento tal da poter essere sensibile a questa vita a questo tempo di dimensamento e questo fu fatto a Flero e capirete pure perché ora vedete che quando adesso lo zeta questo è l'uranio 92 quando lo zeta però cresce il potenziale che viene portato dalla goccia lì non ha più questa barriera e quindi il potenziale è fatto così c'è quella ricordate come è fatto il modello della goccia lì c'è due forze che sono sostanzialmente contrapposte uno è la forza colombiana che tende a distruggere il nucleo l'altro invece è la forza attrattiva che viene rappresentata come una tensione superficiale è quella che tiene la goccia insieme quando lo zeta diventa troppo elevato il prodotto diventa troppo elevato la forza colombiana diventa distruttiva molto più grande di quella della tensione superficiale e il nucleo non può sopravvivere alla fissione quindi detto in maniera molto semplice quindi attraverso un potenziale questo potenziale non ha quindi più una tasca scusate non so se si vede bene il potenziale alla fine non ha più una buca e quindi la barriera di fissione è sostanzialmente cioè tutti i nuclei che hanno uno zeta maggiore di 103 non sopravvivono alla fissione secondo il modello a goccia di liquido adesso utilizzando sempre questo modello incominciamo a calcolare quello che si chiama il tempo di dimezzamento si calcola semplicemente prendendo quella barriera e facendo quello che si chiama l'attraversamento della barriera come così come nel digadimento alfa e allora se uno fa questo calcolo qui vedete trovate rappresentate il tempo di dimezzamento e vedete tutti i nuclei che sono al di sopra di questo di 150 e comunque intorno a 103 vedete non possono esistere sono instabili questa parte blu si chiama il mario di instabilità ok adesso questo era uno dei modelli poi ci si è accorto di un'altra cosa che esistevano dei fenomeni tali che imponevano una rappresentazione del nucleo in forma completamente diversa quello che viene chiamato appunto modello a shell quando uno non ha che non conosce l'interazione non conosce la forza che tiene qualcosa insieme che cosa fa fa la cosa più semplice di questo modo si inventa un potenziale ne prende uno qualsiasi ma non proprio uno qualsiasi prende un potenziale che può risolvere facilmente con l'equazione di Schrodinger voi sapete bene ricordate che se prendete una buca di potenziale armonica un potenziale armonico sapete calcolare tutto quando non è armonico vi dovete adattare e allora entrano le questioni perturbative e così via allora se uno vuole partire a livello zero si sceglie una buca di potenziale e quando è stato fatto questo questi numeretti che stavano qui vedete 20, 50, 82 non uscivano fuori non si capiva perché un nucleo con 50 protoni per esempio era più stabile di uno con 51, 52 finché non si è capito che il motivo per cui questi nuclei avessero questa particolare stabilità e comunque erano appunto considerati magici erano dovuti al fatto che c'era un effetto molto importante che si chiama l'effetto spin orbita quando si aggiunge l'effetto spin orbita al potenziale armonico questi numeri escono fuori perché sono numeri che rappresentano un numero tale di neutroni da chiudere delle shell quindi si formano dei gap nelle livelli di energia per esempio quando il numero di protoni è 50 o il numero di neutroni è 82 e così via quindi la presenza dei numeri magici è una conseguenza diretta di un unico fenomeno che è quello di accoppiamento spin orbita diciamo che il modello rimane semplice perché alla fine è un potenziale armonico più un termine che si chiama appunto un termine di spin orbita ora il punto è questo ma questi due modelli ci danno una visione diversa di che cos'è questo nucleo una volta una goccia di litro una volta è una bocca di potenziale con Ivano abbiamo scoperto negli anni passati anche dalla nostra formazione che il nucleo è un'altra cosa è un insieme di cluster quindi sto nucleo ha tante facce è un rotatore rigido per esempio ha tante facce allora in quegli anni ho detto mettiamo insieme queste cose è possibile mescolare le proprietà collettive della goccia di litro con le proprietà di particella singola del nucleo atomico nel modello Shell e guardo un po' si è trovato il modo anche di fare questo e queste vedete sono quelle che si chiamano le correzioni di Shell queste sono le masse quelle vedete sono le masse calcolate scusate misurate vedete rispetto alle masse calcolate con il modello a goccia di liquido e quando a un certo punto vedete le masse diventano intorno a quelle di una Shell chiusa vedete che le masse incominciano a deviare fortemente da quello che sono il calcolo fatto con il modello a goccia di liquido quindi se uno vuole calcolare correttamente le masse dei nuclei attraverso il modello a goccia di liquido deve aggiungerci delle correzioni queste correzioni le può calcolare attraverso i modelli a scena in questo modo può mettere insieme la parte collettiva con la parte di particella singola e questo fu fatto torno indietro così ecco fu fatto vedete fino a questo nucleo che ha vedete scusate ecco ogni tanto non va beh faccio è stato fatto fino a questo nucleo con masse intorno a 240 250 e questo qui è l'uranio quindi noi conosciamo l'uranio facciamo il calcolo fino a questo numero di neutroni e ci sono stati dei ragazzi allora ragazzini Sobczewski Garev e Kalinkin che dicono ma facciamo una cosa divertiamoci incominciamo ad aumentare il numero di neutroni a caso quindi 92 93 94 rotoni aumentiamo aggiungiamo tanto non esistono questi elementi vabbè poco male guardiamo al futuro e calcoliamo quali sono queste correzioni utilizzando l'equazione di Schrodinger allora se uno calcola adesso il ground state quindi le masse si accorge che in corrispondenza di 114 e 184 c'è una grande deviazione dal modello collettivo di goccia di liquidro questo ha fatto accendere la lampadina e dice guarda caso vuoi vedere che esistono dei nuovi numeri magici in una regione completamente vuota dove il modello collettivo dice che i nuclei non possono esistere guarda caso se uno considera quindi sovrappone gli effetti di Shell al modello collettivo si accorge che il modello collettivo è completamente sbagliato in una regione di Z molto elevata e che in realtà potrebbero esistere dei nuclei in quella regione dove noi pensavamo ci fosse il mare appunto di stabilità e qual è l'effetto e l'effetto adesso come colleghiamo le masse di uno con le masse dell'altro ci ha pensato un altro russo su Trischi che credo sia ben conosciuto qui a Catania e l'effetto qual è? Vedete adesso vado avanti rapidamente perché altrimenti diventa troppo lungo l'energia quindi il potenziale in realtà è una somma di due pezzi un pezzo microscopico e un pezzo macroscopico qual è l'effetto? L'effetto è questo se questa è la barriera costruita con il modello collettivo vedete che l'effetto delle correzioni di Shell è di abbassare il ground state di abbassare il ground state di alzare leggermente questo set or point magari di far uscire fuori anche altri minimi e quindi abbassare il ground state significa che uno crea una barriera che questa distanza qui tra il minimo e il massimo è una barriera di fissione quindi solo per effetto dell'aggiunta delle Shell delle correzioni di Shell escono fuori delle barriere e quindi i nuclei diventano stabili rispetto alla fissione nucleare questo è un caso molto interessante questa è una trasparenza che io molto sapientemente mi sono ho chiesto a Yuri di utilizzare vedete tra le cose che succedono è che queste sono le correzioni di Shell poi vedete si possono trovare dei minimi intermedi questi minimi danno luogo agli stati isomerici cioè dei nuclei che vivono per un certo tempo abbastanza luogo poi alla fine decadono e vedete in questo caso qui il tempo di dimensamento è 0.3 microsecondi la scoperta di questi stati isomerici sono stati la prima conferma dell'esistenza degli effetti di Shell ancora prima di scoprire gli elementi superpesanti e questo è il caso vedete che succede con gli elementi superpesanti la correzione di Shell produce una barriera enorme cosa che non era prevista se uno avesse solo utilizzato il potenziale del modello quindi questa figura che sostanzialmente ci dice che qui non è possibile granché viene a un certo punto ricoperta con una nuova un nuovo calcolo dove viene fuori il fatto che in questa regione 114-184 in realtà c'è stabilità e la cosa interessante è che questa regione è separata ecco perché viene chiamata isola in mezzo questi atomi potrebbero ancora avere una piccola barriera di fissione ma quindi diciamo avranno una finzione spontanea e molto rave ma addirittura qui potrebbe non esserci assolutamente niente la domanda vengo subito la domanda è esiste questa esilo di stabilità c'è una domanda la facciamo certo è così è proprio quello che succede perciò non sarebbe uno stato isomerio altrimenti no certo certamente quindi questa cosa questo risultato dovuto a Garev nel 60 a Garev Sobicevski questi grandissimi teorici che ho avuto anche l'onore veramente di aver conosciuto a Dubna e che poi sono stati anche a Napoli diciamo hanno previsto l'esistenza di questa isola di stabilità questo lavoro ovviamente agli anni 70 in poi ha iniziato a produrre una valanga di laboratori che hanno preso in mano questo punto si è iniziato ovviamente a lavorare a Los Alamos tutto il lavoro fatto da Seabor per esempio Los Alamos e Berkley poi successivamente con la venuta di Oganessian a Dubna fu fatto partire il programma per la ricerca sugli elementi superpesanti poi naturalmente l'interesse si è esteso a tantissimi laboratori per esempio il laboratorio di Canil fu un laboratorio creato da Mark Leffort proprio per produrre gli elementi superpesanti poi alla fine non li ha mai prodotti però comunque è stato un laboratorio creato con quell'intenzione allora se andiamo avanti naturalmente adesso se questa isola di stabilità è la nuova fisica per noi come li dobbiamo produrre e successivamente e il tempo va molto rapidamente come li ripiliamo questi elementi un po' di pazienza arriviamo arriviamo fino alla fine perché dobbiamo ricordare che la teoria sicuramente è molto affascinante ma il nostro compito è di provare che la teoria ha eventualmente la sua soddisfazione in un dato sperimentale molto spesso le cose vanno anche al contrario non pensate che poi lo sperimentale ha sempre bisogno solo della teoria per produrre un risultato nuovo e anzi in molti casi bisogna anche essere fantasiosi spingersi oltre e sperare di avere anche i comitati scientifici che approvano esperimenti pur non avendo una solidità teorica quindi ricordiamoci è bello parlare di super pesanti ma ci dobbiamo porre il problema di come riveliamo questi oggetti così grossi allora intanto come li produciamo è ovvio che l'unico modo per poter fare questo dobbiamo mettere insieme tantissima materia nucleare quindi dobbiamo realizzare reazioni di fusione quindi abbiamo un proiettere un target e dobbiamo sperare che il proiettere viene catturato dal target ma poi questi due oggetti devono fondersi insieme per creare quello che si chiama la fusione completa o cosiddetto nucleo composto che era un oggetto che si conosceva molto bene negli anni 50 negli anni 60 quando le reazioni venivano fatte con il protogono le particelle half che era il modo più facile il modo possibile per accelerare per avere dei fasci accelerati oggi si utilizzano ovviamente gli onipesant Catania ovviamente è uno dei leader di questo quindi conoscete bene l'ambiente il problema è che uno dice vabbè se io faccio fusione completa vabbè non c'è sta problema metto insieme quanto più materia nucleare possibile supero la barriera colombiana gli oggetti fonde e crea oggetti via via più pesanti ecco la natura ci dice attenzione quello che tu pensavi prima adesso non è vero più perché la carica è elevatissima i neutroni sono pochi e quindi tu pensi di creare fusione completa in realtà il sistema non fonde ma si divide ancora prima in due frammenti prima di fondere quelle poche situazioni quei pochi casi in cui il nucleo fonde può succedere anche altro il nucleo può fissionare perché quando creiamo fusione c'è dell'energia di eccitazione nel sistema quindi magari quell'energia è superiore alla barriera del nucleo quella che ho calcolato e quindi il sistema fissione non resiste alla fissione magari ogni tanto succede pure che il nucleo resiste quindi sopravvive alla fissione diciamo noi eventualmente poi può perdere parte della sua energia emettendo qualche neutrone e vedete qui c'è scritto un numero che già incomincia a fare paura solo uno su un milione di queste interazioni portano alla produzione di un residuo di evaporazione significa qui che la forza nucleare è ancora così distruttiva che uno pensa di creare fusione ma in realtà la riesce a produrre solo rarissimamente voi pensate per scoprire l'elemento 112 ci sono state tre cadenti di decadimento in 12 anni gli elementi 100 oganession sono stati 5 eventi in 7 mesi quindi diciamo è chiaro che uno deve avere un faccio intenso un target in grado di resistere a questo faccio e adesso vi farò vedere quindi capite che il vero problema è che il sistema nucleare una volta catturato i proiettili e le target in un unico potenziale alla fine si spacca subito non arriva neanche qua quindi questo è un processo antagonista questo processo è quasi fissione ok allora è ovvio che se adesso voglio arrivare qui devo cercare di capire come farlo e quindi capire il processo di fissione che compie quando riesco a creare un nucleo composto e quando riesco anche a sopravvivre come nucleo fissione per fare in modo da capire quali sono le condizioni da minimizzare la presenza di questi due quindi adesso diventa una cucina è magari importante studiare anche tutti questi processi indipendentemente dalla produzione del nucleo composto allora andando molto rapidamente vedete già uno qualcosa la può scrivere intanto può scrivere che la sezione di produzione di questo oggetto che si chiama appunto residuo di evaporazione è prodotto di tre termini ipotizzando che ognuno di questi step sia ovviamente statisticamente indipendente quello che si può dire è questo che uno può costruire questa sezione di urto come il prodotto di tre termini cattura sezione di cattura la probabilità di formare il nucleo composto e la probabilità di sopravvivere quindi se io voglio studiare questo fenomeno voglio andare a studiarsi tre pezzi indipendentemente quindi qui c'è tutto un mondo di fisica che sono 40 50 anni che si sta facendo naturalmente sempre con strumenti sempre più raffinati e con la disponibilità di fasci sempre diversi in tantissime condizioni diverse vedete la cosa interessante è questa che la quasi fissione è il termine che è terribilmente più importante della produzione del nucleo composto e della produzione del residuo di operazione quindi quello è il vero nostro problema la quasi fissione allora come vi dicevo uno ricordate forse l'avete già vista questa questo è il potenziale di interazione tra i due nuclei questo potenziale sapete che ha una tasca perché c'è una parte attrattiva va bene e uno pensa va bene se io supero la barriera a fondo il problema non si pone in realtà perché non riesco a fondere questi due oggetti perché questa figura qui vedete è una figura molto semplice molto semplificata per quale potete semplificare perché rappresenta il processo di fusione con un unico grado di libertà quando le cose non funzionano la prima cosa che uno deve pensare di fare è di complicare leggermente la descrizione fisica in che modo aumentando i gradi di libertà e se le deve inventare perché non può trattare i gradi di particella singola quindi si deve trovare i gradi di libertà collettivi che danno un po' idea il grosso va bene a questo punto cercherò di andare più velocemente vedete che la cosa cambia molto perché se entri un altro grado di libertà che è appunto la simmetria di massa questa quantità che può essere zero se il sistema è simmetrico uno se è asimmetrico vedete che a certo punto se io guardo questo potenziale adesso in due dimensioni mi accorgo che quando c'è l'interazione iniziale il sistema può viaggiare in questo potenziale può pigliare tante strade qualcuno può portare alla produzione del nuovo non polso ma la buona parte produce due frammenti e in questo è una natura grande perché fortunatamente la reazione è solo binaria immaginate se questa reazione fosse stata eternaria sarebbe stata tutto più complicata quindi il processo binario mi dice che guarda io ho tanti cammini che posso fare in questo potenziale e solo qualcuno può portare qui quindi questa è la spiegazione del motivo per cui la quasi fissione è dominante naturalmente io posso andare avanti e dire vabbè ragazzi quali sono eh questo oggettino è rimasto fuori quali sono i punti importanti quindi sezione d'urto di cattura come studiare la probabilità come studiare la fissione e qual è l'effetto il naturalmente il compito e il ruolo degli effetti di scelta questo vedete è quello che uno può capire dal potenziale vedete uno ha un punto di contatto il sistema può fare tutto questo giro e si può dividere in due frammenti uguali quindi questo si chiama fissione simmetrica dopo la formazione del nucleo composto poi viene un'altra cosa può anche succedere che il sistema prende un'altra strada non diventa mai un nucleo composto ma va a finire in una strada diciamo parallela e può comunque finire vedete nella stessa valle dove si formano esattamente gli stessi nuclei quindi se uno misura che so questi due frammenti se accorgi di queste due masse non sa neanche dire se la reazione è andata lungo questo percorso quindi formazione del nucleo composto oppure è andata attraverso la quasi fissione quindi se uno guarda adesso l'immagine più complessa e questo più per i colleghi forse che possono immediatamente catturare la questione se uno misura due cose la massa del frammento e l'energia di questi due frammenti si accorge che può correlare questa mappa del potenziale con queste masse e si accorge vedete questi due termini sono la quasi fissione cioè tutti i percorsi che non passano attraverso il nucleo composto e quelli che stanno più o meno al centro vedete sono quelli che vanno qui sono quelli che potrebbero sia aver fatto questo percorso sia eventualmente il percorso più lungo il che signore quindi sono mescolati i processi di fissione o i processi di quasi fissione e questo è un problema di grande importanza ma che a questo punto sempre per i colleghi vedete qui si capisce una cosa molto interessante se uno cambia adesso proiettile bersaglio per produrre via via elementi più complicati più grandi per esempio il trato del forno l'assio il 118 il 136 e perché qui ho messo due figure ho messo due figure perché una si riferisce a quella che si chiama la fusione calda che è questa la hot fusion e quella invece la fusione fredda e il termine di fusione fredda ritorna in auge non perché è quella fusione fredda che abbiamo conosciuto gli anni passati perché ci dobbiamo rendere conto che è ovvio che noi più energie mettiamo nel fascio più energie di eccitazione mettiamo nel fascio e più distruggiamo tutto quello che speriamo di costruire però il punto è che e con le cambiano le sezioni di ultimi in funzione di questa energia e allora già si capisce per esempio se uno vuole produrre l'elemento 118 vedete qui al centro non c'è niente cosa significa di significa che io non ci ho ammesso pure che il potenziale c'ha tutto un minimo per come vi ho fatto vedere prima in questa regione qui non ci sono eventi binari quindi significa che non c'è proprio nessuna possibilità di produrre il nucleo composto perché se non c'è una certa sezione di urto qui di frammenti binari significa che questa reazione non mi permetterà mai di produrre l'elemento 118 invece se vado avanti vedete questo qua è il caso del ferro nel 114 e nel 117 vedete che utilizzando reazioni di fusione calda cioè reazioni di fusione a energie leggermente più elevate vedete che la parte simmetrica diventa molto più promettente che la parte simmetrica di questo tipo di reazioni quindi reazioni di fusione calda significa nuclei che hanno un'energia di eccitazione intorno ai 40 50 60 mev mentre in questo caso qua l'energia di eccitazione intorno ai 20 25 mev così che se viene formato dovesse essere formato il nucleo composto al più viene messo un unico neutrone in questo caso qua con 40 50 mev vengono messi 2-3 neutroni e la domanda è vabbè ma se io metto più energia ci guadagno qualcosa in sezione d'urto del residuo di evaporazione eppure no la risposta è sì perché se uno a un certo punto vedete queste sono state le prime misure fatte con la fusione fredda che coinvolgono il piombo il bismuto e il target di bersagli per esempio del zinco 70 in questo modo è stato scoperto l'elemento 112 però vedete che le sezioni d'ultiproduzione degli elementi con la reazione fredda vedete palano terribilmente e rapidamente quando invece Oganessi hanno avuto l'intuizione di usare il fascio di calcio 48 dice proviamo a aumentare l'energia provando a aumentare l'energia ritrovate che a un certo punto le sezioni d'ultiproduzione sono aumentate così per miracolo ed è stato possibile produrre l'elemento l'ipermorio fino all'elemento Oganessi vedete però l'isola di stabilità sta ancora qua a lontanissima perché è difficile mettere insieme con i fasci stabili tanti neutroni da poter arrivare in quella regione quindi l'idea è che alla fine andiamo questo andiamo avanti e questo è un altro modo di vedere cosa succede con la probabilità di fusione e vedete questa è questa curva questa è la probabilità di fusione in funzione di un termine che si chiama la fissilità nucleare però questo per il momento possiamo non addentrarci però vedete subito che per la fusione fredda questa sezione d'ulto cala drammaticamente per la fusione per la fusione calda queste sezioni sono ordine di grandezza superiore quindi anche se ci mettiamo in agire di acidazione se scegliamo correttamente la combinazione proiettivo e bersaglio abbiamo una speranza perché qui ma come in questa voce metto più energia e c'è un motivo che è straordinariamente importante è che il nucleo target è un nucleo deformato e quando il nucleo è deformato le barriere che si oppongono ovviamente alla formazione di quel nucleo hanno producono un vantaggio e ci fermiamo qui perché questo è un elemento naturalmente che aggiunge poi naturalmente vedete c'è la fissione cioè io credo il nucleo composto questo dovrà decadere e dovrà resistere alla fissione quindi bisogna usare la fissione voi sapete bene che la fissione è asimmetrica perché ci sono gli effetti di scena quel potenziale non è quello della goccia di liquido che in realtà è questo vedete c'è un'unica barriera quindi significa che l'unica cosa che può succedere è che il nucleo fissione asimmetricamente poi si fa la misura e si vede che l'uranio per esempio ha una distribuzione in massa che è asimmetrica la domanda è perché perché ci sono gli effetti di scena questi effetti di scena creano delle barriere e quindi il nucleo non può percorrere qualunque strada come è scritto qui ma deve percorrere necessariamente delle strade obbligate delle valli immaginate è stata la catena del Monte Bianco e voi salite sul Monte Bianco poi non è che potete scendere dove volete dovete scendere attraverso i cammini possibili ecco è la stessa cosa che riguarda diciamo questo è l'equivalente meccanico del processo di decadimento e guardate un po' che cosa succede la fissione più o meno la conosciamo sbagliato perché se prendo i modelli di fissione così come la conosciamo noi nelle regioni dove la fissione è stata misurata e questo è un modello molto famoso di Peter Moeller e quando lo estendo a quella regione io trovo vedete che ho una regione dove la barriera di fissione cresce quindi man mano che crescono NZ cresce ma c'è un problema queste due regioni non si sovrappongono cioè la nuova regione di stabilità ha una barriera di fissione che è spostata rispetto a quella che diciamo riesco a calcolare con il modello di Moeller quindi qui c'è un problema che non si capisce bene dove sta la massima barriera di fissione quella che dovrebbe garantire la massima stabilità significa che qui c'è tanto lavoro da fare per esempio la fissione è sicuramente un fenomeno veramente stravagante perché non esiste per un nucleo un unico modo di fissionare esistono tanti modi di fissionare per esempio il fermio 258 c'è una distribuzione di massa simmetrica ma la distribuzione di distribuzione di energia di frammenti è asimmetrica se invece prendete il California la distribuzione in massa è asimmetrica ma la distribuzione in total kinetic energy è simmetrica questo è un puzzle terribile molto difficile da risolvere in parte si riesce a capire si è riuscito a capire nel corso degli anni che è fortemente legato agli effetti di scena ma anche effetti dinamici beh questa la saltiamo poi andiamo avanti un po' anche su queste questioni perché diventa tutto più complicato allora le lascio questi trasparenti magari nella discussione può venire fuori qualche altro elemento naturalmente abbiamo bisogno di produrre fasci e questo per esempio è il nuovo ciclotrone che è stato fatto è stato prodotto alla Super Heavy Factory a Dubna e guardate un altro problema è come fare il bersaglio perché questo bersaglio deve sostenere potenze nell'ordine dei kilowatt e perché ovviamente avendo sezioni d'urto molto basse di una volta uno su un milione stiamo parlando di sezioni d'urto che sono dell'ordine dei picobar noi come nucleare siamo abituati a sezioni d'urto dei 100 millibar ma siamo qualche volta decine centenari di microbar ma proprio ai picobar nei femtobar ma neanche lontanamente tranne qualcuno che qua ci sta provando però questo assurisce che il pericolo anche loro si sono incamminati verso questa strada però pensate il bosone di Higgs che ha 70 femtobar come sezioni d'urto per cui diciamo possiamo stare tranquilli c'è ancora molta strada da fare e vedete che il target è fatto di settori e questo è un target che è ruoto perché ovviamente si deve raffreddare il problema è che questo materiale vedete che sta qui è un materiale estremamente costoso perché per fare un target di Berklenium per esempio per avere 30 mg di sostanza ci vogliono 3-4 anni di reattore e questi vengono prodotti a Oak Ridge dove c'è un reattore veloce e ci vogliono almeno 3-4 anni per fare 30 mg di materiale che poi deve essere portato in Russia e nel frattempo decade perché c'è una vita con un tempo di mezzo e mezzo di 330 giorni quindi mentre lo produce dopo un anno già si è ridotto dalla metà quindi questa ovviamente non è una scienza facile e come vengono registrate ecco il problema della rivelazione e naturalmente abbiamo un fascio estremamente intenso quindi si usano ovviamente dei ripoli dei quadropoli innanzitutto per deviare il fascio perché questi ioni che vengono prodotti devono andare a 0 gradi e quindi a 0 gradi ma anche il fascio la cosa da fare è che bisogna deviare questo fascio poi questi oggetti vengono impiantati quando ci si accorge che esiste un'impiantazione entro un certo tempo di volo che è quello che riguarda il mio secondo la cinematica il mio nucleo fermo il fascio per evitare di creare altre reazioni di creare rumore background e così via questo è il caso del calcio su plutone questa era un'animazione semplice che produce il flare ovvio 292 molto eccitato poi a un certo punto questa mette 4 neutroni e produce il 288 il 288 va nel separatore e viene impiantato e adesso come faccio a sapere che è il flare ovvio 288? come vedete quando uno costruisce lo strumento per fare la misura si deve pure preoccupare di sapere come fa l'analisi perché se costruisce lo strumento e poi non sa fare l'analisi quello strumento ovviamente è solo tempo perso e non ci daranno mai soldi neanche per costruirlo per esempio una cosa uno si dimentica di fare è come calibrare lo strumento uno costruisce un oggetto bellissimo dopo non lo sa calibrare e siamo puntati a capo e allora come si identifica esistono due possibilità una vedete quella dell'impiantazione poi si analizza i decadimenti ci sono due strade una si chiama link to known length cioè il collegamento alla terraferma e l'altra si chiama cross bombardment prendo altri 5 minuti e poi dopo le altre questioni le discutiamo eventualmente dovessero entrare e il cross bombardment ecco come faccio ad accedere allo z direttamente allora vediamo il link to known length che cosa che cosa consiste in questo vedete uno produce pensa di aver prodotto un elemento e questo elemento decade alfa se decade alfa significa che mantiene una certa stabilità ovviamente se va in fissione è perso che non c'è modo di capire qual è la sua distribuzione in massa però se decade alfa e decade nel frattempo in dei nuclei che sono noti io posso riconoscere questa alfa perché sono le alfa caratteristiche fortemente sono alfa e non sono gamma con le alfa caratteristiche posso sapere quali nuclei vengono attraversati a questo punto io ripercorro all'indietro la catena e dico il primo alfa che non conoscevo che ovviamente ho misurato in coincidenza con l'impiantazione quindi impianto e misuro le alfa la prima alfa è dovuta a questo elemento poi ci dice vabbè qualcuno dice ok hai fatto un bel lavoro ma qualcuno lo può confermare? sì se qualcun altro in questo caso è successo a Ricken fa esattamente la stessa misura trova esattamente le stesse alfa questa catena rappresenta una conferma della produzione dell'elemento 112 di cui è stato fatto il claim appunto da GSA in questo caso riguardava Sigur Hoffman compiando Sigur Hoffman in questo modo è stato scoperto l'elemento 112 poi è chiaro che a questo punto nel 2009 è stato appunto scoperto questo elemento poi c'è il discorso del cross bombardment e quando a questo punto vedete ci avviciniamo all'isistabilità vedete che poi il nucleo decade ma attraverso i nuclei sconosciuti che sono instabili e lì non conosco niente del decadimento alfa e allora che cosa faccio? Cerco di produrre lo stesso nucleo composto con diverse reazioni se produco quel nucleo composto quel nucleo composto decade allo stesso modo perché è un nucleo composto quindi se lo ho prodotto in modo diverso e scopro che certe catene sono esattamente sovrappolibili io posso risalire al padre e posso dire ho prodotto quel nucleo allora questo vedete il calcio su uranio che è stato uno dei modi per produrre un diverso isotopo dell'elemento 112 in realtà questo è stato fatto prima del 112 del 112 che avete visto prima poi a questo punto vedete il calcio sul protone parto dal 114 dal 114 e così via quindi se questa parte della catena al di sotto il 112 è identica posso dire che ho prodotto l'elemento 114 e così posso andare avanti a partire dall'elemento 116 quindi io ho prodotto il 114 ho detto va bene questo mi sta bene poi prendo un'altra combinazione curio e calcio e scendo in questo modo e trovo le stesse alfa quando mi trovo in questa condizione e tutte vedete i decadamenti sotto sono esattamente identici allora posso dire che ho prodotto l'elemento 116 queste catene hanno prodotto appunto la produzione di questi elementi naturalmente ci sono tante altre condizioni che vanno considerate per esempio ci possono essere delle correlazioni casuali questo è Loganesson ed in questo caso è stato prodotto col calcio su californio e poi è stato questo combinato con la reazione curio su calcio che era stata prodotta sempre da loro e che aveva portato alla produzione dell'ivermonio in questo caso vedete che mettendo insieme questi decadimenti vedete che il primo decadimento di questo oggetto corrisponde all'ivermonio quelli successivi corrispondono ai flerovio che sono stati creati con delle reazioni che direttamente producevano il flerovio questo cross bombardamento è stata la chiave per definire questa è un po' la situazione andiamo avanti rapidamente questo è l'elemento 112 113 prodotto da Murita a Riken Murita in realtà è stato un allievo di Loganessian poi è ritornato in Giappone e si è fatto il suo strumento per produrre l'elemento 112 andiamo avanti rapidamente ecco adesso il punto finale qual è è che questa è la situazione attuale vedete che questi sono i nuclei che sono stati prodotti siamo lontani il problema è come fare ad arrivare qua è chiaro che questa è tutta la fisica che verrà fatta nel futuro perché qui ci vogliono le idee come fare per arrivare qui perché non abbiamo tanti neutroni disponibili per poter entrare in questa regione e siamo un po' in questa situazione questa è una figura che ha diciamo che ha scritto definito flerofo molti anni fa mi sono dimenticato di aggiungere quella che ha fatto Ivano scusa all'ultimo momento mi sono dimenticato che è molto carina veramente e vedete qui la ricerca è chiaramente super pesante rappresentate con l'isola di stabilità e tutte queste navi che partono dal continente e qui la parola continente diciamo è ben conosciuta ricordo che mi sono venuto la prima volta in Sicilia e sono andato alla stazione e ho visto continente Sicilia e la cosa subito mi ha fatto capire qual è la situazione qual è il punto di vista di questa terra che ovviamente è straordinariamente bella e allora queste sono le navi sono le nostre reazioni e vedete che questa reazione indotta da neutroni non ci portano a nessuna parte la fusione fredda ci porta molto lontana bisogna andare verso la fusione calda col calcio 48 questi vedete sono gli elementi prodotti finora e vedete che quando ci si e queste sono le vite medie le half le tempi di dimezzamento e qui vedete che c'è dal 112 al 118 e qui cosa interessante vedete che man mano che si arriva al 114 il tempo di decadimento questo alfa cresce poi man mano che ci si allontana di nuovo decresce e che ci fa capire che anche se stiamo sfiorando la valle di stabilità probabilmente quella valle forse esiste io sono sempre stata l'idea che è sicuramente molto interessante se esiste abbiamo fatto bingo ma se non esiste secondo me facciamo due volte bingo perché a questo punto là significa che noi continueremo a sfiorare la fisica nucleare nei secoli dei secoli perché se non ci sta questa valle di stabilità è un problema ancora più grosso allora ultima questione poi dopo mi faccio un po' di autoreferenza ma una volta che uno ha scoperto questo elemento il nome chi ce lo dà perché quello si chiama canessio flerovio livermoni eccetera e qui la comunità si è dovuta organizzare perché è chiaro che tutti quanti possono dire beh io l'ho scoperto prima di te e quindi il nome aspetta a me uno magari dice no non è vero perché tu hai copiato quello che ho fatto immaginate cosa può succedere mettere il proprio nome sulla tavola periodica degli elementi un nome messo sulla tavola periodica vale per l'eterità una volta che viene messo non si può togliere più non si può cambiare anche se è stato scoperto un errore diciamo ah è vero tu avevi detto però si sono sbagliati quindi siccome l'ho scoperto io quindi il nome adesso ce lo metto io non si può fare per esempio questo è successo con il nobelium il nobelium apparentemente fu scoperto dai svedesi perciò si chiama nobelium poi fu scoperto che in realtà non era vero e la vera scoperta è stata fatta dai russi però il nome è rimasto quindi bisogna fare attenzione in queste cose allora la comunità si è dotata di uno strumento cioè un metodo per dire qualcosa deve essere vero affinché possiamo certamente dire che un elemento è stato sintetizzato sono stati scritti dei criteri tra le persone che hanno scritto queste idee c'era per esempio Mark Lefort che è un fisico molto famoso purtroppo non ancora tra noi ma tantissimi fisici noti in quel periodo hanno scritto questo insieme di regole tra cui ovviamente immaginare intanto la riproducibilità cioè un altro laboratorio devi fare la stessa misura devi trovare gli stessi risultati e questo lavoro chi lo fa? lo fa un comitato un comitato che viene eletto da queste due diciamo istituzioni che non so se conoscete International Union of Pure and Applied Chemistry si chiama UPAC è quella che si chiama International Union of Pure and Applied Physics UPAC questi due comitati che rappresentano la fisica e la chimica del mondo si mettono insieme e nominano un gruppo di persone che valutano tutte le prove sperimentali sulla base di questi criteri quindi hanno una rispondazione enorme e quello che dice questa commissione è inevitabilmente deve essere accettato dalla comunità perché è una cosa che uno non può modificare perché la comunità ha dato loro questo mandato e questo gruppo deve decidere per tutti ecco quindi è insindagabile questo risultato non si può modificare allora io ho avuto la fortuna di essere nominato in questo non so come sia successo e nel nel 2016 per dieci anni ho lavorato come in questo comitato vedete nel 2016 è stato scritto un report sull'elemento 118 e poi l'elemento dal 103 al 117 questo è stato gli ultimi due casi e la domanda è una volta che viene scoperto l'elemento e dice va bene questo è corretto tutte le prove sono corrette il laboratorio a cui viene assegnata la scoperta di quell'elemento decide il nome ok e questo nome viene lasciato per sempre allora vedete che lì ci sta il Flerovium poi c'è il Livermoreum c'è il Tennisinium Loganes perché ci stanno un po' di russi e un po' di nomi americani perché questi esperimenti sono stati fatti in collaborazione tra i russi e gli americani in particolare gli americani hanno messo a disposizione i target prodotti a Oak Ridge ma l'altra cosa importante è che i dati erano disponibili a tutte e due le comunità e hanno fatto tutte e due l'analisi indipendentemente quindi questo è estremamente importante ultima trasparenza e ci fermiamo che succede adesso alla chimica vabbè due minuti ancora che succede alla chimica vabbè questo oggetto 118 lo mettiamo qui nell'ultima tavola degli elementi ma è effettivamente un elemento nobile questo oppure no allora il problema è che in realtà non potrà mai essere un gas nobile questo elemento perché perché quando lo Z aumenta drammaticamente immaginate gli elettroni che stanno intorno a questo atomo con 118 protoni e sapete bene che più Z aumenta più aumenta la velocità dell'elettrone nell'orbita più vicina ma quando aumenta la velocità guardate che quando Z cresce questa velocità diventa quasi la velocità della luce e quindi la massa aumenta quindi quando si calcolano gli orbitali bisogna tener conto delle correzioni relativistiche queste correzioni relativistiche modifano in maniera straordinaria per esempio se queste sono le densità elettroniche per il caso non relativistico quando aggiungiamo gli effetti della relatività il nucleo diventa più piccolo c'è una contrazione delle dimensioni quindi le orbite degli elettroni più interne sono molto più vicine e quindi ovviamente gli elettroni sono molto più veloci questo produce uno stravolgimento della chimica e soprattutto poi gli elettroni che stanno più esterni sono meno legati quindi il nucleo è molto più reattivo quindi non è come non esistono più di fatto quelle che si chiamano le shell chiuse ecco questo è il caso gli effetti di shell vedete qui sono gli effetti di shell che vedete bene sono tutti questi orbitali molto ben definiti per chi lì non ci sono le correzioni della dipiste nel momento in cui si mettono le correzioni della dipiste vedete gli effetti di shell scompaiono totalmente quindi questo nucleo questo atomo è un'altra cosa il che significa che se oganesso non è un numero non è un gas nobile non ci sarà più periodicità ricordate la tala periodica poi torna indietro finita l'ultimo torna indietro per cui qui entriamo in un altro mondo che mette insieme sia la difficoltà di produrre questi nuclei si ha difficoltà di capire qual è questa chimica alla fine della storia chiudiamo poi magari questo lo trattiamo successivamente il futuro qual è? il futuro è che noi questa è la struttura la superi fattori di tubo un laboratorio è stato fatto in un tempo record questo è il nuovo ciclotrone il separatore ecco la storia è questa che attualmente noi stiamo di fatti vedendo solo da lontano col binocolo come si dice anche a Napoli la valle di stabilità e come fisica nucleare noi siamo qui siamo forse nel periodo prescoperto dell'America quindi c'è ovviamente molto fermento ma anche con l'idea che questa terra probabilmente sarà vista a breve tutto questo vi ringrazio scusatemi se mi sono leggermente allungato assolutamente sì siamo molto lontani perché il problema è questo che la produzione di questi elementi ha un limite importante che se ne producono pochi allora tutte le proprietà vengono calcolate con dei modelli che hanno e ce ne sono diversi autori che calcolano le proprietà di questi nuclei di questi atomi il punto è che come fare misurare queste proprietà e lì diventa il problema infatti è stata inventata di sana pianta una tecnica chimica che si chiama la chimica del singolo atomo questo si fa in che modo grazie di questa domanda così che ha un modo di dire rapidamente questa quello che è stato fatto finora è questo vedete che questi nuclei hanno ovviamente una vita media e naturalmente se vengono prodotte poi decadono immediatamente non c'è tempo neanche di fare la chimica non c'è modo di fare un composto che so farlo bollire farlo raffreddarlo diciamo non c'è modo di stabilire la chimica così come l'abbiamo fatta finora e allora vedete qui queste sono le vite medie che sono dell'ordine di pochi secondi o addirittura qualche centinaio di millisecondo quindi bisogna inventare una chimica nuova una delle cose che è stata fatta ma non hai tempo per fare la spettroscopia certo 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 ma non sai più dove stanno i livelli cioè gli orbitali sì teoricamente sì certamente non è tempo di misurarli allora una delle cose che viene fatta è questa intanto vedete il fascio che si può andare nei riviatori di silici quindi impiantati vengono trasportati attraverso un gas catch cioè entrano in una camera dove c'è un gas che può essere argon oppure per esempio elio e quindi viene sostituita tutta la parte di impiantazione da un gas catch qui c'è una finestra c'è un gas e vengono trasportati in una zona che ha un gradiente di temperatura questo è il sistema ci sono dei sensori dove l'olione che viene trasportato si può agganciare ad ognuno di questi oggetti a seconda della temperatura perché il legame l'assorbimento di quello ione secondo il calcolo può essere fatto sul sensore a una certa temperatura perché ovviamente il legame diciamo il legame ionico in questo caso più covalente è possibile solo se te lo suggerisce il calcolo ovviamente e questo legame ovviamente dipende dalla temperatura se di tipo ionico o di tipo covalente allora che succede e questo sono i sensori ok e ovviamente a seconda di nel viaggiare a seconda di dove si deposita io posso avere un'informazione che si chiama energia di coesione e allora a questo punto vedete quello che viene è questo scusate vado avanti è questo allora vedete qui c'è il gradiente di temperatura io faccio delle calibrazioni per esempio so che all'esterno qui c'è il radon che è il gas nobile va bene naturalmente se prendo adesso il mercurio so che si deve fermare a un certo punto quindi il sensore che viene attivato è quello che si trova a una certa temperatura per esempio il copernicio so che si deve fermare qui quando è stata fatta la misura dal mio amico Eichler si è fermato intorno a questo punto qui chi ha fatto pensare dice quello che è stato prodotto è il copernicio però vedete è solo un'informazione se vogliamo non diretta di quella del fatto che questo oggetto c'ha carica 112 questo è il motivo per cui questa dimostrazione dà un'idea precisa secondo il calcolo quindi diciamo suggerita dal calcolo di quale potrebbe essere la proprietà chimica del copernicio però non è una dimostrazione che quella effettivamente è il copernicio e quindi è chiaro che questa chimica del singolo atomo avrà bisogno ancora di tanto lavoro anche perché oltretutto ci sono solo due di queste due o tre forse di queste fasi uno appunto a Dubna e l'altra appunto è stata gestita dal PSI negli anni passati però questo laboratorio adesso è attivo anche a Dubna dove c'hanno una sezione c'ha un'altra linea di fascio una parte c'hanno il separatore di massa il Dubna gas field separator la versione nuova e in più c'hanno un'altra linea dove studieranno solo la chimica però loro adesso possono produrre 100 con il nuovo acceleratore siccome abbiamo sezione tutte loro di 4-5 picoburn devono utilizzare fasci intensissimi parlo di 4-5 parti con microampere di calcio 48 va bene in questo modo loro hanno riprodotto esattamente gli stessi nuclei però è a centinaia quindi possono fare una chimica molto più diffusa nell'arco di hanno iniziato credo la costruzione della super heavy factory neanche dieci anni fa e si sono fermati perché avevano problemi di edifici che sembravano molto sì ma i problemi che abbiamo avuto noi negli anni ma si sono fermati solo per cui la parte scendibile sono andata con un treno e hanno disegnato tutto loro il ciclotron si erano fatti in casa e hanno comprato ecco la Danphysic hanno comprato solo alcune cose ma la buona parte c'è il cuore di questo laboratorio è stato costruito lì bisogna dire che una cosa che non ho citato è il lavoro che viene fatto in questo momento anche a Rigen perché anche lì stanno lavorando e stanno cercando di produrre l'elemento 113 scusate 119 però purtroppo non ci sono ancora eventi e quindi diciamo bisognerà aspettare ancora molto prima di vedere probabilmente dei nuovi elementi in realtà tu hai fatto vedere chiaramente come diciamo molto del successo di questa tipica è da attribuire ai punti perché bisogna dire le cose dove stanno io quando ho cominciato a fare tipica nucleare nelle conferenze c'era una specie di scetticismo nei confronti del metodo brutto della fusione causa diciamo mentre in Germania c'erano le cose più cini perché non sono andate a finire e però oggi è molto successo come hai fatto vedere tu gli americani stessi sono riadattati a dare i versanti ai russi non fare loro in casa queste quindi è chiaro che diciamo oggi con l'attuale panorama è molto triste riconoscere perché si va verso una situazione in cui i russi continueranno a fare queste cose e noi al più sapremo dagli articoli quello che stanno facendo tu cosa ne pensi perché penso siano dei rami della fisica nucleare che più soffre diciamo questo tipo di visione blocchi è chiaro che loro continueranno perché adesso stanno 10 anni avanti a tutti il problema è che siamo stati noi che non siamo rimasti indietro e quindi diciamo gli eventi diciamo internazionali non hanno fatto altro che amplificare la situazione però il fatto che in tutta Europa in tutti gli Stati Uniti poi in tutto il mondo tranne che in Giappone questa fisica è stata in qualche modo sempre più lontana dagli interessi principali è un problema ma questo è un problema nostro non è legato né ai russi né ovviamente alla situazione internazionale e io so che a Berkeley stanno cercando di recuperare questa situazione però dovete capire che per fare un'attività di questo tipo ci vogliono anni di fascio allora la fascia deve essere una cosa delicata non può essere una fascia dove uno dà il fascio a questo esperimento a questo esperimento all'altro deve essere una cosa fatta ad hoc per fare solo questo tipo di lavoro e questo ovviamente loro ci hanno pensato già lo facevano con gli altri ciclotroni perché c'erano altri due ciclotroni che hanno aggiornato nel corso degli anni quando hanno capito che quei due ciclotroni non erano sufficienti perché poi ovviamente altri gruppi pure volevano fare misure hanno capito che l'unico modo non si poteva continuare a rimodernare il ciclotrone perché le intensità di fascio dovevano essere cento volte mille volte più grandi e allora hanno capito che andava costruito una nuova facility con tutto il know-how che avevano l'hanno fatto nel giro di pochi anni e io ho assistito tutto questo dalla nascita fino a quando non è stato a fare le prime misure perché stavo nel parco di Dubna e sono ancora nel parco di Dubna e quindi ho assistito a tutto lo sviluppo che è stato fatto lì e è chiaro che hanno un'organizzazione tale è un know-how che funziona però ecco c'è una linea politica scientifica molto diretta io ho chiesi quando Anestiano è venuto a Napoli nel 2018 chiesi ma come ti è venuto in mente di dare questa linea così importante a Dubna e tutti quanti ti sono venuti dietro perché non era facile negli anni 70 adesso inizi a fare una fisica completamente nuova dove non si sa se si sono ristabilita esiste oppure no e lui mi disse guarda in quegli anni era un momento di depressione totale Dubna non sapeva in che direzione andare Flerov aveva appena chiamato da poco chiamato Canessian e lui Armeno fu chiamato credo abbia stato da Musca fu chiamato da Flerov perché lui di fatto era un ingegnere dei ciclotroni quindi così mi è stato detto e diciamo lui è venuto a Dubna e c'era il problema di capire cosa fare di Dubna e quindi lui ebbe questa idea diceva se noi ci mettiamo in qualcosa di completamente nuovo che anche inizialmente può sembrare una cosa fuori dal mondo rischiamo tanto ma se ci mettiamo in questa strada e questa strada ci dà il risultato positivo noi ovviamente rinasceremo e manterremo una leadership quindi lui è stato bravissimo nel convincere anche i politici dell'epoca di intraprendere questa strada quindi questo è stato il suo merito poi naturalmente ha avuto le idee di fisica perché non è che anche lui è partito con la fusione fredda e poi ha capito che non era cosa e non è che allora si potessero fare tanti calcoli i calcoli sono solo una conseguenza di un intuito scientifico e lui ha detto beh proviamo col calcio 48 e gli è andata bene quindi ci vuole anche quella spregiudicatezza quella capacità di diciamo di rischiare qualcosa pur non avendo sotto mano un modello qualcosa di concreto quindi questo è il problema nostro che stiamo rimasti perché guardate questa cosa ha prodotto tanti altri vantaggi tecnologici di cui ovviamente non abbiamo non abbiamo ancora parlato ma immaginate con la chimica qui è vero che questi nuclei vivono pochissimi cioè vabbè ma tu alla fine non è che puoi produrre qualcosa però questo non significa che uno lo studio non lo deve fare perché poi non puoi mai sapere ecco la natura ci dice attenzione tu pensi che sia così ma io ti sorprendo e questo penso sia la cosa che noi dobbiamo tenere a mente io quando vado a fare un esperimento spero sempre di trovare qualcosa che non mi non aspettavo perché per me la natura a me la natura mi sorprende cioè immaginate quando lo studiate fisica no quante cose voi pensate ma guardando un po' la natura come ha collegato le cose è una sorpresa perché questo uno deve pensare che possa continuare se io ci sto a questo gioco io ho avuto degli esperimenti per esempio approvati dove non avevo fatto neanche un calcolo neanche un calcolo se però metti insieme le cose le giri d'eccitazione un momento angolare un minuto di previsione eccetera e fai quadrare le cose magari trovi pure qualcuno che ti dice beh però la cosa è ben impostata potrebbe dare anche un risultato come si chiama high risk high gain e bisogna tenerla aperta la porta a queste cose perché se no la fisica non avanza cioè se noi facciamo solo gli esperimenti dove già sappiamo qual è il risultato io credo a parte perdiamo interesse noi ma non avanziamo quindi il minimo di rischio noi lo dobbiamo tenere sempre aperto non c'è dubbio che deve andare a erogare fascio per un anno intero per un esperimento di cui tu stesso dici che cioè è chiaro che non di cosa è questo anche però qui adesso il rischio attenzione però il rischio qui è già stato superato perché ha prodotto cinque elementi nuovi che nessuno pensava potesse produrre quindi è chiaro che adesso c'è una base che gli aspetti molto più in avanti e si è creato non solo questo ma si è creato anche un tessuto di expertise che non c'è da nessun'altra parte e quindi questo che cosa fa? non lo finanzi? lo vuoi perdere? secondo me la scelta obbligata è quella di dire beh adesso lo facciamo allora questa è una domanda che da tempo ci stiamo facendo anche noi e che pure Oganessian ci fa a noi ogni volta che andiamo a parlare con lui diciamo scusa ma tu mi puoi fare un esperimento per farmi capire perché il calcio 48 ha queste proprietà particolari chiaramente noi non lo sappiamo ancora l'idea che ci siamo fatti è che questi neutroni in più rispetto al calcio 40 sono qualcosa che creano una forma di halo creano un po' una pelle intorno e per il fatto che questi neutroni stanno un po' più lontani che succede che la sezione di autodiffusione cresce perché c'è un raggio maggiore di questi nuclei e questo dovrebbe portare al fatto che i nuclei cominciano a interagire quando sono più distanti però queste sono solo diciamo elucubrazioni diciamo idee che non ci dicono di fatto qual è ancora il vero motivo di questo non è solo l'idea di legame ovviamente che conta perché ovviamente sono nuclei magici quindi l'energia di eccitazione è più bassa perché ovviamente la massa è più bassa quindi nel bilancio energetico aiuta però è chiaro che questo cambia tutto nella sezione di cattura e adesso sì però posso rispondere anche a questo non so se c'è c'è no c'è va beh vi lascio questa cosa non so se vi lascio questa piccola chicca ma così per ma anche per i ragazzi per capire che in realtà tutti quanti pensano i fasci adattivi l'intensità è troppo bassa non è detto che ci aiutino perché abbiamo bisogno di 5 particolari anamper 5 microamper e abbiamo 10 ordini di grandezza in meno sui fasci radioattivi in realtà le cose non stanno proprio così perciò bisogna studiare e guardare il potenziale questo è un esperimento approvato ai solde che noi abbiamo approvato per cui perché abbiamo usato pensato di usare un fascio di nickel 66 che è un fascio radioattivo il nickel 58 quindi ha 8 neutroni in più è chiaro che si fa qui andiamo a guardare il potenziale se uno guarda il potenziale lo si accorge che parte da questo punto qui vedete che qui sta proprio quasi sulla cima della valle però la parte posteriore c'ha tanti canali è uno dei canali vedete che è possibile quello di produrre il nucleo composto e poi la quasi fissione l'altro invece è quello di andare qui e non produce il nucleo composto se uno utilizza non il nucleo ma un nucleo più pesante parte più in qui se parte più in qui quindi qua dietro non ci arriverà mai perché arriva qui subito ci sta la valle quello se ne esce però se parti un po' dopo con un fascio radioattivo ti puoi incanalare qui quindi pure se la sezione d'urto pure se esce scusate l'intensità è bassa però c'è il canale aperto è come dire io voglio scalare il monte bianco se scalo da un lato e sono costretto per forza ad uscire dall'altro però se vado da un altro punto quando mi approccio e guardo dalla cima tutti i possibili canali ne trovo di più rispetto a quello che trovo se sono salito da un'altra parte e questo è l'equivalente del mercato cioè il fascio radioattivo non è vero che non ci può dare delle sorprese questo è il caso in cui secondo me la sorpresa può venire e questa misura chissà quando la faremo perché poi fare misura con i fasci radioattivi è complicata però qua li fate i fasci radioattivi o li farete bisogna pensare a questo sì c'era Schip o Sigurd Hoffman era un grande sì 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 ora Veir prevede una linea di studio dei superpesanti che io non conosco a proposito sì allora tra le ecco questo qui è tasca scusate la figura non è proprio bellissima tasca è il separatore che è stato costruito da Christophe Duhlmann una decina di anni fa e che è stato utilizzato moltissimo al GSI anche per confermare i dati di Dubna perché i dati di Dubna per esempio l'elemento 116 c'era il cross bombardment ma qualcuno dice aspetta ma non è che hanno sbagliato qualcosa i russi quindi in Germania sono state fatte le stesse misure e hanno confermato le misure successivamente alla proposta fatta dallo IUPAC queste altre cose interessanti perché uno dice vabbè hanno fatto il cross bombardment lo IUPAC il comitato si è fatto da un gruppo di persone che hanno ritenuto giusto e opportuno fare quello quindi dare quella scoperta però non c'è una conferma all'esterno di Dubna loro l'hanno fatto e l'hanno confermato quindi tasca in Germania è uno delle faciliti che sarà collegato con lo sviluppo dei fasci a GSI ma anche dei fasci radioattivi quindi quei fasci radioattivi verranno usati per due cose sia per le questioni riguardando la radioterapia perché lì ci sono degli ERC che sono stati approvati per l'uso dei fasci radioattivi con la radioterapia ma saranno utilizzatissimi anche per la produzione degli elementi super pesanti noi tra le varie cose le attività che abbiamo lì a GSI e di usare i fasci radioattivi per le reazioni di multinucleon transfer perché tra le cose che possiamo continuare a dire non so se forse c'era una domanda magari su questo è che se le sezioni d'urto qui per i nuclei super pesanti sono dell'ordine dei 5 picobarn e vabbè ma scusa ma devo arrivare ma sta fusione è sufficiente per andare che sono alle 120 121 oppure non ci sarà più possibilità in realtà forse se uno continua a studiare la trova la possibilità e tra le possibilità c'è quello che si chiama il multinucleon transfer che è un altro fenomeno che studiamo proprio con forte il multinucleon perché perché se uno prende fasci di uranio e con questi bombarda il curio nel trasferimento multinucleone significa questi sono nuclei in cui non c'è una tasca nel potenziale e quindi l'unica cosa che può fare è il trasferimento e lo deve fare a bassa energia ed eccitazione questo meccanismo che ancora in parte sconosciuto si chiama multinucleon transfer vedete che se uno trasferisce abbastanza il nucleo può produrre gli elementi super pesanti e questa è la regione è molto lontano ovviamente dal dipine elastico classico però può produrre gli elementi super pesanti quindi bisogna studiare il multinucleon transfer per capire se effettivamente è una strada alternativa alla fusione nucleare alla fusione calda quindi ce n'è di strada quindi noi anche come laboratori nostri abbiamo tante possibilità alternative che servono poi a tracciare la strada da tempo si sta cercando gli elementi super pesanti in ambiente astrofisico è una anche quello è un grande sogno e naturalmente siamo lontani perché non abbiamo nessuna indicazione finora della possibilità di produrre questi numeri si pensava che forse nelle stelle di neutroni nella crossa delle stelle di neutroni ma siamo ancora molto lontani altri tentativi sono stati fatti c'è un famoso articolo scritto da Greiner e Zagreb è stato uno degli iniziatori del multinucleon transfer un teorico molto famoso che uno di questi articoli dice se voglio produrre elementi super pesanti con il meccanismo tipo un processo R che faccio di avere tre esplosioni nucleari tutte quante cadenzate in un certo tempo se faccio tre esplosioni nucleari uno dopo l'altro secondo questa tecnica posso produrre elementi super pesanti se questo dovesse avvenire effettivamente con quella tempistica in ambiente astrofisico c'è anche una possibilità che possono essere prodotte però è chiaro rivelare questi oggetti diventerebbe complicatissimo come e qual è l'osservabile questo è uno dei punti chiaro ovviamente io avevo una domanda più tecnica di curiosità per produrre questi elementi ad una oppure anche agenziale grossomodo quali sono le correnti tipiche di fascio per esempio nel ciclotrone e l'energia a cui fare avvenire le riazioni sì allora le energie tipicamente sono quelle sopra barriera vanno intorno a 5-6-7 m per nucleone quindi sono basse ovviamente le densità sono elevatissime quindi se diciamo ai tempi dei primi esperimenti si arrivava massimo a un particle microampere ma queste sono in condizione eccezionale qui adesso bisogna arrivare tra i 5 e i 10 particolo microampere e questo ha prodotto la nuova la nuova facility quindi ovviamente nuove sorgenti il vero problema non è solo la produzione del fascio alla sorgente ma il trasporto il primo grosso problema che hanno avuto a Dumne è come trasportare il fascio hanno iniziato dal 30% adesso sono arrivati quasi all'80% del fascio trasportato e questo ha prodotto tutto un insieme di esperimenti che è stata una replica di quelli che hanno fatto ma anche all'aumentare leggermente le energie di eccitazione e produrre i nuclei che si allontanano ancora di più dalla lista per esempio in Moscovium c'è un articolo anche recente dove hanno prodotto tutto un insieme di nuovi nuclei sempre identificati con link to non land dove hanno scoperto altri soldi che si allontanano poco male però intanto imparano a usare la facility e hanno messo quindi il cappello su tantissimi altri isotopi sono una ventina se non sbaglio di nuovi isotopi che hanno scoperto facendo questo i nuovi soldi sono pochi però hanno riprodotto una ventina di vecchi elementi che hanno riprodotto in poche quantità con gli esperimenti fatti fino al 2010 ho capito che si devono poi rivelare le alfa in coincidenza con l'impiantazione per seguire le catene di decadimento e che tipo di rivelatori vengono usati in quel caso sono segmentati sono segmentati tipicamente hanno il segmento a qualcosa come 200 micron e cosa è importante perché la segmentazione è importante perché uno deve tenere conto che l'olione viene impiantato in una certa posizione e poi l'alfa deve venire dalla stessa posizione e quindi tutti i regamenti non devono ridere un A perché altrimenti ovviamente si mescolano tutti il problema è quando poi magari qualche alfa ha un'ergia più bassa perché fa un escape da un'altra parte e quindi ci sono delle catene che sono vuote però la ricostruzione di questa catena non è banalissima perché tu devi collegare tutte le alfa potrebbe succedere che uno di questi nuclei intermedi legate a beta e quindi la catena scende di uno z più basso e questo è un elemento di discordia perché diciamo ma tu come fai a sapere che quel nucleo ecco che ci vuole l'incrocio e il problema è che più ci si avvicina alla valle di stabilità più la probabilità di decadimento beta aumenta ho fatto una volta una tesi triennale un ragazzo bravissimo che ha calcolato con il metodo Monte Carlo tutte queste probabilità e ha fatto vedere che quando ci si avvicina alla valle di stabilità il decadimento beta diventa più importante del decadimento alfa e quindi tutte queste catene si incominciano a mescolare quindi le proprietà dei nuclei intermedi devono essere conosciute bene e chi lo deve fare questo lo possiamo fare anche noi chiaro quindi è fondamentale riempire tutte quelle zone vuote con nuove proprietà dei nuclei per fare questo bisogna ovviamente imparare a usare meglio le reazioni nucleari e quindi il lavoro preparatorio è strumentazione ma ovviamente anche sulla conoscenza delle reazioni in questo caso qui ecco grazie per vi dare la possibilità di far vedere qualcosa in più ecco queste qua sono reazioni binarie sempre ricordate che la fise nucleare c'ha questa grande bellezza che sono quasi sempre reazioni binarie ci sono anche le ternarie ma di questo magari lo faremo in un altro colloquio e questo è il caso uno che cosa deve misurare due frammenti tipicamente si misurano i tempi di volo questo è un esperimento che abbiamo fatto a Givaschila e vedete questi sono due rivelatori che stanno in un unico braccio che fanno da start e da stop e sono sensibili alla posizione quindi uno misura nella reazione binaria un frammento che va a sinistra del fascio l'altro che va alla destra del fascio misura posizione e angolo quindi angolo e velocità cioè misura il vettore e velocità di ogni frammento dalla cinematica binaria uno può ripostruire le energie e gli angoli e costruisce queste matrici che avete scritto che vedete qui in cui mettete qui il numero di massa di uno dei frammenti perché l'altro complementare ovviamente banale conservazione della massa è la total kinetic energy che è la somma delle due energie queste due osservabili già danno un quadro molto preciso della mappatura del potenziale quindi la prima cosa da fare è misurare i tempi di volo e tutto l'esperimento forte Ivano conosce bene che riferite l'esperimento è basato su questa fisica estremamente semplice con due braccia con due bracci possiamo facilmente determinare un numero enorme di quantità guardate che questo diciamo l'apparato sembra semplice però ricordate che l'apparato non è solo l'apparato non sono anche tutte le correzioni che bisogna aggiungere per poter arrivare a questa massa e questa TKI e sono cose sono dolori va bene quindi non è proprio tutto così facile quindi questo è il primo elemento cioè determinare naturalmente il numero di masse però questo non è ancora tutto perché questa è la massa a noi in realtà interessate anche la carica di quell'oggetto e noi stiamo lavorando Ivano lo sa bene stiamo lavorando a un nuovo spettrometro che ci permette anche di determinare la carica di oggetti molto pesanti che sapete bene magari gli studenti lo capiranno nel futuro che quando l'oggetto ha un Z molto elevato e l'energia è molto bassa separare i nuclei che hanno Z prossimo è estremamente complicato e noi ci stiamo provando con questo esperimento che andremo a fare a febbraio con un nuovo tipo di spettrometro che è sensibile anche all'OZ OZ elevato perché il nostro scopo è di entrare in questa zona che si chiama la terra incognita che è una zona sconosciuta e per fare questo bisogna avere Z molto grande e nuclei molto neutron rich e quindi il multi-nucleon transfer è quello che per noi è la strada perché il multi-nucleon transfer vedete questa è la produzione nei nuclei con il 126 questo qui ovviamente è un numero magico e quando si vuole scendere nella terra incognita con il 126 e naturalmente bisogna avere molti neutroni a disposizione e il multi-nucleon transfer è quello che vedete c'è una sezione d'urto molto più grande dei altri casi che sono per esempio la frammentazione i fasci del GSI molto energetici ci permettono di produrre questi nuclei esotici ma con sezioni d'urto che sono dell'ordine di 10 alla 7 volte più piccola di quello che si può fare con il multi-nucleon transfer quindi c'è la possibilità di alternarsi tra la fusione completa e il multi-nucleon transfer quindi si misurano sostanzialmente i tempi di volo grazie un buon inizio un buon inizio d'anno anche per me un buon inizio d'anno anche per me perfetto benissimo e io ho diventato di parte mi sono occupato sulla conjuntività mesoscopica inizio d'anno che è qualche cosa al metà a quel punto la lezione che avevamo imparato era questa c'erano teorie di azzurle e compagnia sostanzialmente gli ingredienti universali importanti in questo gioco erano column interaction padding spin-off e level statistics assolutamente d'accordo anche in fisione nucleare è esattamente la stessa cosa allora qui adesso apri un portone se mi ascoltate io parlo perché questa domanda richiede allora fondamentale perché diciamo ognuno di questi elementi che sono praticamente trovano l'applicazione diretta del campo delle reazioni nucleari infatti quello lì è diverso perché adesso quello che si sta facendo in fisione nucleare sono i funzionali funzionali di densità quelli sono probabilmente la chiave per il nostro futuro però diciamo questi processi come multinucrono hanno trovato una grande applicazione nel quello che si chiama stocastic mean field cioè si usa il campo medio però c'è aggiunta al campo medio una parte stocastica e quella parte stocastica finora ci ha permesso di riprodurre dei dati che noi abbiamo misurato in una reazione che si chiama più misurata nel 2012 è stato il primo modello dopo nove anni sono riusciti a riprodurre dei dati che tutti gli altri hanno cercato di riprodurre in quei nove anni precedenti quindi quella è una strada ma il funzionale è la strada allora ti rispondo in questo modo sicuramente tutti gli elementi che hai citato sono importantissimi la densità di livelli pure è fondamentale una cosa molto importante in questa categoria di cose che hai citato è la dissipazione perché tu devi trasferire massa e devi trasferire energia questo modo di trasferimento viene rappresentato nella fisica nucleare delle reazioni nella dinamica la parte dinamica che ha a che fare con questo meccanico che si chiama dissipazione cioè come si trasferisce energia tra i gradi di libertà si dice collettivo e quelli di particella singola che sono rappresentanti da un bagno che sono tutti progressionali ed è presentato da un bagno di calore heat bat questa è la meccanica statistica proprio livello zero perché noi non trattiamo il livello di gradi di libertà di particella singola quindi che facciamo scegliamo dei gradi di libertà collettivi quelli che ci sembrano più adatti per esempio nella fissione è la forma dei nuclei che la forma sapete bene che è fondamentale per capire quali sono le forze che tengono quella forza quell'oggetto insieme quindi si scegliono delle variabili collettive tutto il resto è demandato viene racchiuso in questo bagno di calore però il termostato deve scambiare energia con i gradi di libertà questo meccanismo di scambio si chiama appunto dissipazione questo significa quanto rapidamente e quanta energia ci vuole per trasferire i nitroni e i protoni questo termine nella parte di dissipazione attualmente in quasi tutti i modelli è un termine che è lasciato libero per cui uno aggiusta il parametro a seconda di quanto bene riesce a riprodurre la distribuzione in massa quindi ci sono tanti gradi di libertà e tanti ingredienti dei modelli per esempio la densità dei livelli è un problema aperto in visita nucleare da sempre e quindi anche lì diciamo è necessario fare continuamente studi collaterali per caratterizzare sempre meglio questa densità dei livelli quindi è una problematica che noi pari pari possiamo vedere diciamo tranquillamente aperta anche nell'ambito delle reazioni e la sua la risposta chiederemo molto più argomentazione ma mi sono mi fermo mi fermo qui ah va bene va bene va bene va bene c'è anche uno studente che vuole fare la domanda non l'hai visto ancora è lui è lui è che non lo so è così giovane che posso pensare che sono uno studente vabbè allora Emanuele diamo la priorità vai allo studente e questo mi ricordo ci siamo già scambiati opinioni su questa questione assolutamente sì perché l'emissione di neutroni è un modo per dissipare energia è chiaro che nel momento in cui viene l'emissione di neutroni c'è una competizione tra l'emissione di neutroni e la fissione chi domina tra i due la speranza qual è che man mano che il neutroni viene emesso si riduce l'energia di eccitazione e quindi incomincia a prevalere la barriera di fissione e quindi il nucleo resiste il problema è che togliendo neutroni si abbassa pure la barriera di fissione perché il nucleo tende a perdere neutroni con forza coesiva quindi è un bilancio e questo gioco dei neutroni è ben noto non solo nella fisica super pesante ma anche nella fisica a 100% di energia di eccitazione dove questo bilancio neutroni fissione è un bilancio molto diciamo labile e c'è ancora un grande diciamo discordia nel capire cosa prevale quando viene emesso il neutroni se prima della fissione se dopo della fissione se durante la fissione noi lavoriamo da tanti anni per esempio con Nicolai Carciani che è esperto di fissione ternarie dove il neutrone è quello che viene emesso dal NEC molti anni fa io stesso ho fatto una misura negli anni 2000 dove faccio vedere l'importanza dell'emissione di frammenti di massa intermedia e si vede che questi frammenti benissimo dalla cinematica sono correlati con la direzione di emissione dei due frammenti quindi tutto quello che noi possiamo aggiungere naturalmente è importantissimo per i neutroni ancora di più perché sono quelli che scappano prima e sono anche quelli più difficili da misurare quindi tutto ciò che possiamo ottenere non l'ho per esempio i neutroni nessuno di queste misure sono state fatte anche in coincidenza con i neutroni quindi l'idea è che vengono messi quattro neutroni perché l'emissione di quattro neutroni produce un numero che poi si adatta bene a tutta la catena ma non vengono misurati i neutroni ecco noi nel contesto di funzione di energia di funzione di energia quindi tipo calcoli di calcolo medio che oltre abbiamo visto che nello studiare questi per esempio come variabile collettiva in un momento di guardare il volo non solo è importante è fondamentale quindi per studiare la prescrizione tra la prescrizione e la fusione guardare le energie di simenzione ma in realtà il volo per dominante è svolto in realtà dai componenti isoscalari dell'equazione di stato della nucleare quindi dall'incompressibilità o dai termini isoscalari quindi della superficie della superficie quindi in realtà anche per i bootleg che sono neutral reach quindi quelli più fortemente asimmetrici in realtà nel contesto degli EDF il loro determinante è sempre svolto dalla componenti isoscalare quindi legata all'incompressibilità o ai modi superficiali cioè ai termini di superficie nonostante la materia sia fortemente asimmetrica ovviamente l'energia di simenzione è un ruolo importante però il ruolo determinante continua a essere molto a questo allora io sono d'accordo che tanti altri termini entrano ovviamente e che sì sì purtroppo c'è anche la dipendenza di simenzione dalla temperatura quindi c'è veramente un mare magnum di possibilità che andrebbero investigati indipendentemente quindi in realtà questi andamenti non si vedono per esempio la dipendenza dell'energia di simmetria dalla temperatura è un oggetto ancora di grande discussione soprattutto se uno va a bassa energia di eccitazione chiaro quando va più alta energia di eccitazione o energie intermedie ci sono tante informazioni che uno può ottenere dalle risonanze giganti a tantissimi fenomeni ma a bassissime energie di eccitazione siamo complementi all'oscuro di queste dipendenze quindi andrebbe fatto uno sforzo per pensare ad altri esperimenti che non abbiano come target direttamente la produzione degli elementi super pesanti ma esperimenti di natura collaterale che poi saranno un domani di supporto quindi diciamo quello che vedo io è questo che la fisica degli elementi super pesanti può essere da traino per tutto un insieme altro di fisica di tanti punti e che secondo me anche per noi fisici nucleari diventa estremamente importante anche se vogliamo per quelle cose che diceva Stefano Primo le questioni di natura scientifica noi abbiamo un grosso problema in fisica nucleare che se diciamo dobbiamo dire ma voi cosa fate non possiamo incominciare a dire a noi ci piace la spettroscopia la forma dei nuclei oppure che ne so termini che sono incomprensibili a noi manca ecbra manca una terminologia che in poche cose in poche parole fanno caratterizzare un problema importante quindi quando uno dice per studi gli elementi super pesanti in due parole io ho chiuso quando si dice materia oscura abbiamo chiuso quando si dice bosone di X abbiamo chiuso magari adesso possiamo dire doppio decadimento scusate doppio scambio di carica benissimo però è chiaro che è importantissimo che noi individuiamo anche come comunità delle linee che anche dal punto di vista scientifico e politico immediatamente possono identificare una strada gli elementi super pesanti per esempio abbiamo l'astrofisica nucleare che può tirare che tira sicuramente tantissimo interesse perché uno lo collega all'universo alle stelle alla produzione di energia ma non basta perché c'è anche una fisica nucleare di base che ha bisogno di una sua strada e questo come noi lo possiamo giustificare con poche parole allora secondo me una delle strade io naturalmente qui faccio questo lavoro quindi per me è più facile dire quale potrebbe essere per me però dobbiamo come comunità fare uno sforzo per sintetizzare e trovare linee che possono essere da tra per tutto un mondo di fisica che noi continuiamo a fare questo secondo me è il punto importante quindi quello che dici tu è fondamentale perché io lo capisco che è importante però dobbiamo cominciare a pensare pure agli esperimenti assolutamente sì però capite questa cosa certo sono d'accordo ma il punto è questo che questa fisica fino non è stata mai pensata secondo le linee guide che stavi dicendo tu e quindi non è detto che una strada parallela di questo tipo ci potrebbe portare per esempio quello che la fisica che tu trattavi secondo me è estremamente importante per la parte di cattura il problema è che calcolare la sensazione di cattura è estremamente complicato o viene fatto oggi con metodi geometrici molto rozzi perché è un problema multidimensionale un problema multicorpi chiaramente devi semplificare e qui ci sono modelli molto semplici alla fine una piccola equazione di Schredding un potenziale pochi gradi di libertà la distanza e finisce là non è detto che uno studio potrebbe essere esteso a partire dall'equazione di Stato introducendo quegli ingredienti che sono tipici dell'equazione di Stato significa proprio cambiare direzione però è una strada aperta pensaci grazie è stato un piacere in ordine grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti